Undicesima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, prima gara di campionato del 2022 e alla Stella Azzurra si affrontano due grandi squadre, Frosinone contro Roma. Entrambe appaiate a 20 punti prima di questo incontro, la partita è un dominio giallorosso. La squadra di mister Massimiliano Ferretti scende in campo con un agonismo feroce e una condizione fisica invidiabile. Riesce così a creare gol e spettacolo vincendo 6-2 contro i Canarini. Nella magica serata della Roma Calcio 8, da segnalare un esordio importante, Simone Cassetti, nuovo esterno basso, dimostra grandi qualità difensive bloccando svariate azioni avversarie, ma ha anche grande voglia di farsi vedere in zona offensiva. È proprio il numero 8 ad indirizzare la partita, aprendo le marcature dopo soli 3 minuti di gioco e non soddisfatto, continua a svariare per cercare e realizzare la doppietta personale sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Roma vince con soddisfazione di tutto l'ambiente giallorosso e mostra il nuovo acquisto, subito decisivo. Per l'undicesima giornata, Simone Cassetti è nominato Acquario Man of the Match.